Siamo davvero felici di incontrare Laura Purino stasera perché inaugurerà la nostra stagione il 13 di ottobre all'Evere di Vimodrone. Ci tenevamo a farti qualche domanda sullo spettacolo. Lo spettacolo racconta di come una passione possa salvarti. È la storia di una ragazzina che viene trasferita agli albori degli anni 70, anzi fine anni 60, in una di queste città satellite della grande fabbrica e giura che se ne andrà il prima possibile di lui. Perché rimane? Perché in quel luogo trova le sue passioni, tra cui il teatro. Per gioco è la storia della La prima volta che va al teatro e lungo via incontra tutte donne, sono tutte donne appassionate che le comunicano un modo per stare al mondo dovunque. Perché se hai una passione tu puoi stare in qualsiasi luogo. Cosa vuol dire per te questa passione? Cioè il fare teatro, quel momento prima di salire sul palco e subito dopo nell'incontro con lo spettatore. Quel momento lì è un momento di timore, quella cosa lì del batticuore c'è, ma in realtà se lo spettacolo dura un'ora è l'ora più bella della mia giornata. Se dura due ore sono le due ore migliori di quel giorno. Cioè è la remissione dei peccati. Qualsiasi cosa sia accaduto, adesso si va. E quindi è pura gioia. Pura gioia. Pura gioia. E adesso che ci hai appassionato, ti facciamo l'ultima domanda che facciamo sempre a tutti gli artisti che vengono ospiti da voi. Come sai la nostra sala è una sala un po' particolare perché è una sala da ballo che noi abbiamo trasformato in un teatro, in un luogo dove incontrarsi attraverso l'arte. E quindi la domanda è, se ti dico Everest, tu cosa mi dici? Grande fatica per scalare una montagna, ma sai che bello il paesaggio da lassù. Intanto Everest è un posto che si sente bene. Ci si sente bene, come vicino a una cascata. Poi hai abitato, e non lo dico per lusinga, da gente che ti fa stare bene. Certo, farci il teatro è la montagna. Bisogna scalare. Come si diceva prima, cioè bisogna scalare. Scalare tutti i giorni. Bisogna scalare tutti i giorni. Ma dall'altro il paesaggio è lunga vita, tanta musica e tanto ballo e tanta gioia. Bene, allora... Passione porta bene a cominciare le cose. E' lo spettacolo che mi chiedono sempre per inaugurare i teatri. Mi pare che funzioni, quindi venite tutti, non sono io, eh. Ma è questo spettacolo in particolare che ha questa nomea, io volentieri la sostengo. Quindi non potevamo iniziare meglio. Così si dice. Vi aspettiamo del 13 ottobre alle 21 all'Everazili Mudrone con Laura Curino. Grazie Laura. Grazie a voi.